La Marca con il numero 5 Antonio Retice, con il numero 6 Gianluca Tristaldi, con il numero 7 Giuseppe Truglio, con il numero 8 Fabio Marletta, Esquitaleria, Cidiazono, Leanza, Dubitrasco, Marletta, Città di Messina, con il numero 1 Agostino Di Dio, con il numero 2 Cipriando Obradoschi, con il numero 3 Carmelo Viscluso, con il numero 17 Santi Mangano, con il numero 18 Viborio Bongiovanni, allenatore signora Pasquale Rando. La Marca con il numero 1 La Marca con il numero 1 La Marca con il numero 1 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!